Siamo a Rotoforol in compagnia di Gianmatteo Maggioni che è responsabile commerciale per e coordinatore del gruppo italiano Rotocalco. Stamattina volevo chiederti a proposito del tuo ruolo di coordinatore del gruppo italiano Rotocalco quali sono le attività che come gruppo state svolgendo e il futuro che vedete appunto per l'associazione ma anche per la tecnologia in generale e il mercato? Il gruppo ha lo scopo di promuovere il know-how italiano come eccellenza nel mercato della Rotocalco. L'Italia è un paese dove i produttori di tecnologia del mondo roto sono sicuramente tra i migliori a livello mondiale ma è anche un paese dove la tecnologia roto è utilizzata molto. è il secondo paese in termini di stabilimenti e di macchine di stampa Rotocalco installate. Quindi una realtà che ha tutte le competenze per promuovere questa tecnologia. I nostri obiettivi e le nostre attività sono principalmente quelli oltre a quella di promozione anche quella di formare perché abbiamo visto negli anni che c'è una carenza formativa da questo punto di vista e quindi ci siamo impegnati verso gli istituti, le scuole ma anche con dei corsi che realizziamo direttamente a chiudere questo gap e la partecipazione per esempio all'evento di oggi della scuola Rizzoli ne è una testimonianza. Grazie Gian Matteo. Grazie a voi, a presto.